Eccoci qua pronti ad affrontare la prima vera lezione di questo corso, ovvero la parte numero 2, che si occupa dei commenti. Ebbene sì, può sembrare magari una cosa strana perché un commento è parte del codice ma ovviamente non implica nulla, nessuna funzionalità perché in quanto commento è lì solo appunto come commento, però ho voluto proprio dedicare una parte di questo corso al commento perché in realtà il commento è importante. Perché è importante? Per noi stessi, perché se ci creiamo il nostro script bash, il nostro programmino bash, in un determinato periodo poi lo abbandoniamo per tanto tempo e lo riprendiamo in mano dopo tanto tempo, non è per niente scontato che ciò che era chiaro quando l'abbiamo creato a mente fresca lo sia ancora successivamente. Quindi è molto utile, importante e soprattutto pratico e a valore aggiunto commentare tutto quello che ci viene in mente sul momento, quando stiamo creando il nostro script, perché è proprio il momento migliore. Perché è lì che ci stiamo ragionando sopra, che lo stiamo sviluppando, che adottiamo determinate soluzioni nel codice dello script con motivi chiarissimi in quel momento ma che poi passando il tempo magari sfuggono. Quando si riapre uno script senza nessun commento si deve perdere una gran quantità di tempo a ripensare come mai che è stato fatto una cosa in un certo modo, come mai non è stata fatta in un altro modo. Invece con un commento è subito tutto chiaro, si scrive ho fatto così per questo e questo motivo e voilà che il codice diventa leggibile, facilmente leggibile anche per noi stessi. Questo è veramente una cosa importante che molto spesso un brutto vezzo degli sviluppatori è quello di tralasciare tutto tranne il codice, cioè tutti si concentrano a codificare ma poco a commentare e a documentare quanto viene codificato perché sul momento è tutto chiaro, sul momento si presume che sia sempre chiaro, che lo sarà sempre. In realtà non è così o non sempre. Quindi prima di tutto per noi stessi, per essere chiari con noi stessi e poi anche per gli altri. Perché questo? Perché se abbiamo intenzione o c'è occasione di distribuire il nostro codice, il nostro script che magari serve anche a qualcun altro, un nostro amico, alla comunità open source, insomma perché no? Se io ho già fatto lo sforzo di creare uno script che può servire anche ad altri, perché gli altri dovrebbero rifarlo, questo è un po' anche il principio dell'open source, non è vero? Ecco, e allora diventa ancora più importante commentare il nostro codice perché distribuito come col principio dell'open source tutti possono vedere il nostro codice e diventa importante che gli altri possano leggere come mai abbiamo impostato il codice in quel modo. E un vecchio adagio appunto come riporto qui dice 100 programmatori o sviluppatori, fate voi, 100 soluzioni diverse. Ecco è proprio questo il punto chiave che fa capire l'importanza dei commenti. Ogni persona ha un suo modo di affrontare e di risolvere i problemi e quindi se nessuno commentasse mai nulla tutti svilupperebbero il loro codice a loro modo e quindi chiunque altro voglia entrare con la testa a capire quel codice dovrebbe entrare un po' nella testa di qualcun altro. Invece con i commenti ci si risparmia questo sforzo perché che poi si apprezzi o meno la soluzione è un altro discorso ma avere la soluzione già spiegata si risparmia molto tempo perché lì è chiaro il perché è stato fatto in un certo modo una certa cosa. Quindi è importante commentare il codice per noi e per gli altri semmai dovessimo avere occasione di distribuire il nostro codice, di condividerlo con altri. Poi per le istruzioni d'uso chiaramente dove è meglio indicare come usare uno script se non nel commento iniziale. Quindi facciamo il nostro bel commento lungo, corto, quanto serve, non è importante però chiaro che aprendo il codice dello script cos'è la prima cosa che vediamo? Il commento iniziale. A questo proposito, magari a questo punto è meglio che apro il codice che ho preparato corrispondente a questa parte di corso, quindi apro il codice chiamato parte 02, un bel doppio clic e mi si apre nel mio editor ed ecco qua. Quindi vi ricordo che nel video precedente, quindi nell'introduzione nella parte 1 di questo corso, trovate nella descrizione il link per scaricarvi tutto il materiale del corso, quindi anche tutto questo codice che ho già preparato, preconfezionato, fra i quali appunto questo che ho appena aperto. Quindi voi, se state seguendo questo corso, potete aprire anche voi, esattamente come ho fatto io, questo codice e ve lo ritrovate esattamente così. Ecco, allora, dicevo, il commento iniziale, ecco perché vedete qua, poi tra un attimo vediamo le caratteristiche sintattiche per inserire i commenti e gestirli, comunque vedete questo, l'avrete già capito in blu, con questo simbolo davanti, è un commento. Ecco, il commento iniziale è il primo che appare, che balza all'occhio quando si apre il nostro codice, e quindi è importante creare appunto un commento proprio anche, perché no, per le istruzioni d'uso. Vedete qui che ho già inserito nel commento, uso dello script e poi ho messo così una frase provvisoria, perché questo appunto è solo un esempio di codice dove mostro varie forme di commento, però avete capito il principio. Ecco, e per segnalare la licenza infine, perché se voi intendete distribuire il vostro codice, il vostro script bash sotto legida della licenza open source, quindi in modo che si rispettino le regole del mondo software open source, voi dovete inserire nel commento iniziale l'accenno alla licenza GNU General Public License, eccetera, eccetera. Ecco, questo qui è un paragrafo tra virgolette standard che si può trovare anche in altri programmi. Io l'ho copiato, l'ho messo così, l'ho verificato e ho cercato di metterlo in una forma che funzioni per tutti, insomma. Quindi questa parte, se lo volete inserire nel vostro codice, la potete mettere facendo un semplice copia e incolla. C'è il riferimento alla licenza, quindi si dice esplicitamente che questo è software libero, ridistribuirlo con i termini della licenza, di open source, e che la licenza, qui naturalmente, non allego il testo originale della licenza, ma si cita il link per andare a leggersela. Ecco, questa parte, quindi, sempre ammesso che il vostro script bash non sia una semplice, diciamo, macro per facilitarvi alcune operazioni, e quindi non c'è bisogno di tutta questa, tra virgolette, burocrazia e formalità e formalismo, quindi lì ovviamente non sarà necessario, però, qualora stiate affrontando un lavoro un po' più corposo, che prevedete che abbia magari anche un futuro, tra virgolette, pubblico, è importante anche, sempre che vogliate distribuirlo con questa licenza di software di Dio, dopo è scontato che, dunque, essendo un canale su Ubuntu, su Linux, per gli amanti dell'open source, dopo è scontato che cerchiate volentieri di lavorare sotto questa licenza, quindi vi ho messo questo paragrafo che potete, appunto, sfruttare e copiare anche nei vostri lavori. Ecco, quindi vedete che quello che poteva sembrare magari all'inizio una lezione un po' così superflua, magari perché il commento è solo commento e non è codice, è testo morto, tra virgolette, non verrà mai interpretato dal motore bash, in realtà il commento ha il suo valore aggiunto e come, è molto importante il commento. Diciamo che in proporzione addirittura il commento potrebbe essere anche più righe di commento che righe di codice, ovviamente, perché una riga di codice potrebbe essere un po' complessa, bisogna essere spiegata, quindi non c'è né da vergognarsi né da spaventarsi se ci sarà più blu che altri colori nel vostro codice, anzi, vuol dire che avete lavorato bene. Ecco, adesso vediamo un attimo le regole sintattiche che avrete anche parte già intuito guardando questo esempio. Quindi, la prima riga di uno script, in questo caso script bash, è di codice per la nostra shell bash, è così, è questo, questo è fisso, predeterminato così. Lo cito qui perché, a parte che ogni vostro script dovrà iniziare con questa scritta, e perché appunto ha davanti questo carattere dash, questo carattere come un cancelletto, credo che si chiama anche in italiano, che è lo stesso che si usa per il commento, ecco, il carattere cancelletto si usa per commentare una riga alla volta, quindi l'avete capito qui, vedete che lo ripeto ad ogni riga, cancelletto, e l'evidenziatore di sintassi, di gedit, per appunto il profilo shell, sh, evidenzia in blu i commenti. Ecco, la prima riga, diventa blu anche lei perché abbiamo messo davanti questo simbolo, però è particolare, è un commento, diciamo, speciale, che sta a indicare al nostro sistema Linux quale motore di shell usare per interpretare il codice che poi segue qua sotto. Perché dico così? Perché bash è una delle shell che esistono nel mondo Linux, in realtà ne esistono svariate, e siccome fra una shell e l'altra ci sono delle differenze nei comandi che riescono ad interpretare, bisogna partire con una shell e restare con quella, perché noi possiamo scrivere tutto il nostro codice che funziona con la bash, poi magari dimentichiamo questa riga iniziale e magari per difetto il vostro sistema utilizza un altro motore di shell e magari alcuni comandi non vi funzionano e non capite perché. Ecco, quindi è importante essere espliciti e chiari, anche se magari il vostro sistema Linux, già lui è stato impostato in modo che per difetto usi la bash, non fa niente, è meglio essere espliciti perché è anche chiaro, sempre per i motivi che ho già citato e elencato all'inizio, è anche chiaro per gli altri, quindi quando si vede questa prima riga, sia voi, sia coloro che ricevono magari il vostro codice da utilizzare, non hanno più dubbi, ah ecco, viene usata la shell bash e non un'altra. Quindi questa prima riga prendetela, copiate, incollatela, lasciatela lì come prima riga che è a posto. È un commento speciale che alla partenza dello script, quando lo facciamo partire per eseguirlo, il sistema legge questa prima riga e dice, ah ok, uso quella. Perfetto, quindi prima riga speciale è a posto. Poi abbiamo detto che è essenziale, utile, indispensabile mettere un bel commentone iniziale nel quale si cita la licenza, nel quale si dice, si spiega cos'è questo script, cosa fa, qual è il suo scopo. Qui nelle prime righe vedete lo scopo, per esempio questa shell ha solo scopo didattico, ho messo tanto per metterne una, licenza, l'autore, l'anno, mettete quello che volete, potete mettere anche una data invece dell'anno, siete liberi, non c'è un obbligo a essere esattamente come questo esempio. Questo è un esempio di commento, quindi per definizione il commento è un testo libero, potete fare quello che volete, mettere di più, mettere di meno, fate voi. Questo è un esempio, un modello che vi do. In fondo le istruzioni per usare lo script, che si vedono qua all'inizio, e questo ve l'ho spiegato, e ecco, l'ultima cosa interessante per i commenti è il blocco dei commenti, ovvero questo carattere, quindi il cancelletto o dash, permette di commentare una riga alla volta, ma in realtà quando noi stiamo sviluppando il nostro codice magari diventa lungo, non lo so, magari è un piccolo script, magari è un grande script, e lo possiamo sviluppare a pezzi, a parti. E quando testiamo il nostro script non è che vogliamo tutte le volte rieseguire tutte le parti di codice che abbiamo già sviluppato e sono già giuste, tutte le volte passare tutti i passaggi, fino ad arrivare al punto che stiamo sviluppando nuovo, che magari ha ancora dei problemi da correggere. E allora possiamo usare questa sintassi qua per commentare tutto un blocco di codice, senza dover passare tutte le righe e metterci il cancelletto davanti ad ogni riga, perché l'alternativa sarebbe quella. Allora diventa molto comodo questa sintassi, questa impostazione particolare, che ci permette di inibire, di spegnere quella parte di codice compresa fra i due blocchi. Ecco, un commento inizia con questa sintassi, quindi due punti, minore, minore e un certo nome di commento, e finisce con lo stesso nome del blocco di commento. Vedete qui per esempio, ho chiamato due punti, minore, minore, test, righetta bassa, if, e ho chiuso con testif, vedete che viene ripreso. E questo qui il blocco, vedete che è tutto nero, non è colorato perché è spento in questo momento il codice. Se io mettessi sotto commento, a sua volta, questa sintassi di blocco, vedete che il codice immediatamente si colora, perché adesso è tornato attivo. Vedete? Rispettivamente abbiamo qui un altro blocco di commento, due punti, minore, minore, loop, for, che si chiude con loop, for, che è spento in questo momento perché attivo il blocco di commento. Quindi qui diventa molto utile questo accorgimento, questo aspetto sintattico della bash, per testare a blocchi il nostro codice. Quando noi lo eseguiamo, lo eseguissimo adesso, questo codice, farebbe solo questa parte, verrebbe interpretata solo questa parte, ma non questa perché è spenta. Viceversa, se noi facciamo così, riattiviamo il blocco di questa parte di codice, e quindi quello si spegne, magari spegniamo questo, perché vogliamo testare solo questa parte. Ecco qua, quindi ho messo sotto commento il blocco di commento, un po' il gioco di parole, vedete che si è attivata questa sintassi e si è spenta questa. Ecco, se io salvo questo codice, ecco, e provo ad eseguirlo, vediamo se lo trovo che è il comando, forse no, non lo trovo, allora lo eseguo, corso, ecco, non guardate ancora come faccio a richiamare il codice, perché lo vedremo nella prossima, con la prossima lezione in avanti. Qui voglio solo mostrarvi come funziona appunto il commento spento o acceso. Ecco, quindi adesso io posso eseguire questo codice, vedete che elenco dei pianeti del nostro sistema solare, e vabbè, adesso anche qui naturalmente non focalizzatevi su cosa fa il codice, perché ovviamente non l'abbiamo ancora imparato, però vedete che questa parte di codice non si è vista nell'esecuzione, ma si è visto solo questo elenco dei pianeti del nostro sistema solare, vedete, perché appunto ho inibito la prima parte di codice. Ecco, questo punto è importante per testare parti di codice singole senza dover ripetere sempre tutto dello script che magari appunto è molto grande. Ecco, quindi, per quanto riguarda i commenti, direi che è tutto, è più che sufficiente, credo che l'importanza dei commenti sia ormai chiara, quindi vi do appuntamento alla prossima lezione e per il momento vi saluto, ciao ciao!